Paolo Leone, produttore di Creedage, ma com'è stato ideare questo film, ma soprattutto produrlo, perché è davvero simpatico, almeno da quello che abbiamo visto dal trailer? Sì, è stata un'avventura, è stata un'esperienza molto molto bella. Si presentò un giorno Frank, mi fece vedere una specie di trailer, così giusto per farmi vedere quale rigiene. Poi ho visto, era appena uscito Creed, era una parodia e io come la vidi impazzì da aver risata, quindi abbiamo deciso immediatamente di far scrivere la sceneggiatura a Frank e quindi poi il film si è realizzato. Attualmente abbiamo fatto il primo dicembre 2016 a Bari, con un successo allucinante, e adesso il film è stato preso da ITN Distribution di Los Angeles e sarà portato nei grandi market del cinema, nei vari festival. Quindi è un successo in salsa pugliese sdoganato oltreoceano. Sì, sicuramente anche perché il pugliese, il barese è internazionale oramai, quindi ci sono tantissimi pugliesi in tutto il mondo, ho avuto anche dei riscontri sulle visualizzazioni del trailer, anche dall'America e quant'altro, mi scrivevano per conviventarsi per quanto riguarda proprio l'esportazione della salsa barese, l'umorismo barese al di fuori dei compiti italiani. Dino Paradiso, uno degli attori di Kridesz, parliamo del tuo ruolo nella pellicola. Beh, io sono uno che indaga, diciamo, no, un commissario, uno che ha capito che dietro la storia di questo ragazzo che vuole fare il pugile si nasconde un segreto e quindi tenta in tutti i modi di farlo venire fuori. Ovviamente una caratterizzazione comica come quella che è il film, ah, che è il film rouge poi di tutto il film, perché lo vogliamo ricordare, questo è il remake comico di Creed di Silvestre Stallone, attore famoso, che era già il seguito di Silvestre Stallone quando lui faceva Rocky Balboa, cioè questo è il seguito del seguito del seguito del seguito e alla fine, che dire, venite a vederlo, almeno per la curiosità, per divertirvi, il film è girato bene, siamo felicissimi. Perché adesso siamo in America in distribuzione e quindi anche io ne faccio parte. È davvero bello sentire raccontare a te di com'è stato questo film, ma farlo vi ha fatto ridere, vi ha fatto sorridere anche sul set perché c'è il trailer che è di una ilarità fantastica. Tutto ciò che è comico parte sempre dalla serietà del momento, quindi non si può fare il comico facendo solamente, come dire, prendendo la cosa così sotto gamba, quindi partiamo dal presupposto che per fare un film ci vuole la serietà nello scrivere, nel girare, insomma, chi decide di mettere i soldi, chi deve recitare. Poi è chiaro che con un gasto di attori come questi e con una umanità che penso, insomma, traspare un po' dalle altre interviste che avete fatto, insomma, dai produttori agli altri attori, e come fai a non ridere? Cioè, anzi, voglio dire, avevamo un grosso problema che era quello che non dovevamo ridere e dovevamo essere seri nell'essere comici, eh, che è una cosa strana, però è così.